L'assessore del comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli, è stata selezionata tra i giovani amministratori partecipanti delle giornate di formazione organizzate dall'Anci Campania in corso di svolgimento presso il complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli, un progetto che coinvolge 120 tra sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali, campani, under 35, volto a favorire la diffusione dell'idea della politica come funzione sociale insostituibile, finalizzata alla realizzazione del bene comune e a combattere il demone dell'antipoliticità nelle nuove generazioni. L'assessore Martuscelli sta prendendo parte ai Civic Training Days e dovrà successivamente impegnarsi, attraverso incontri pianificati negli istituti scolastici, a diffondere nelle giovani generazioni una visione positiva dell'impegno nell'amministrazione della cosa pubblica, rendendo noti i compiti e le responsabilità delle istituzioni locali e diffondendo il senso ed il bisogno di una sana amministrazione di perseguimento e conservazione dello Stato di legalità. Mi sono da subito interessata al progetto e ho inviato la mia candidatura perché intendo il valore della formazione come punto fermo di partenza per qualsiasi occupazione, dichiara l'assessore Elisabetta Martuscelli. Essere amministratore oggi, in una realtà sempre più veloce e complessa, presuppone avere competenze ad ampio raggio e sempre aggiornate. Inoltre, questi momenti di formazione sono importanti per il confronto e lo scambio con altri giovani amministratori che con passione, studio e confronto lavorano per il proprio territorio.